Questo video è come le prova a non ridere, non ho riso. Beh, a tu te, io ho risotto 8 volte. Cosa diavide è sta roba? Qualcuno l'ha fatto davvero? No, ok, sono abbastanza sicuro che sia un fake, ma è un fake fatto veramente bene. All'inizio mi ci sono quasi fatto prendere. Il motore punto AVI. Il motore, il motore, proviamo a farla in versione, non so se mi ha fatto ridere di più il suo accento oppure il fatto che è partito il motore e non si sa neanche come. Oh, sì, questa l'ho vista. No, i video di oggi sono troppo potenti, basta. Non ce la posso fare. Madonna se... Ok. Pensavo così che fosse di nuovo Thomas the Dank Engine, quello Dank Express. Madonna, ragazzi, ve lo inviate 80 volte a video. Non ce la faccio più. E' sbagliato. Non si dovrebbe fare così. Lo sapevo, lo sapevo. Non so perché me la stavo aspettando troppo. Se non guardi questo, il tuo canale sarà brutto. Non sta per... Ma no! All the other kids in the pamparaki, you better run, better run, outrun, ma go. Quanto pesante! Mio Dio! Bellissimo, nonostante tutto. Guarda codesto video. Davvero? Ultimamente non lo so. Ce l'avete con la canzone di Kirby? Voglio vedere cosa succede, davvero. Non so dire. Wow, Minecraft Bike Parody Meme. Adoro questo meme di Minecraft. Non so perché. E' semplicemente bellissimo. E' giusto, eh? E' vero! Che poi effettivamente su Fortnite c'è il piccone col segno stop. Sì, anche per oggi è tutto. Oh, oddio, mi sono fatto malissimo. Ok? Ragazzi, non datevi gli schiaffi sulle cuffie. Mai, 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 mai. Mai, mai, mai. Mai, mai, mai. Ma porca troia. Mai, 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 mai. E' tutto vero! Oh, no, è finita. No. Oh, no.